Eccolo qui, live, ciao ragazzi, benvenuti, mi auguro che si senta ma penso di sì, vado solo a condividere la diretta sulla mia fanpage perché alcuni possono essersi collegati da là, quindi vado a condividerla sulla mia pagina e poi partiamo, ok? Ok, intanto do il benvenuto alle persone che si collegano e do qualche secondo di tempo a tutti per arrivare, ok? Dovrei averla condivisa anche, ciao Marco Delendati, benvenuto, c'è già un sacco di gente collegata, 22 persone in pochi secondi, ciao Daniel, benvenuto, ok, ho condiviso anche sulla pagina fan, quindi arriverà un po' di gente. Vado anche a condividerlo magari nel gruppo di Marketing Genius, se ci riesco così sono anche più carico, gruppo, Marketing Genius Movement, eccolo, condiviso anche di là. Ok, ciao ragazzi, ciao man, Massimiliano Cimelli, benvenuto, Giovanni Basile, ragazzi faccio fatica a salutarvi tutti perché siete Stefano Sferrazzo, Agostino Bugari, benvenuto, Stefano Sola, Luca Barracco, uff, non so quanti ne ho saltati. Comunque, benvenuti ragazzi, grazie per essere qua. Ho intitolato questo live, cosa cavolo è Marketing Genius? Perché? Perché voglio un po' raccontare di questo progetto che stiamo portando avanti da qualche mese, che mi sta dando enormi soddisfazioni a me a livello personale, perché era un mio sogno, era un mio obiettivo, ma soprattutto a tantissime altre persone che sono parte di questo progetto insieme a me. Infatti in questo video spiegherò cosa è Marketing Genius, contro chi si batte Marketing Genius, quindi chi siamo, contro chi ci battiamo e perché siamo qui. Quindi Marketing Genius è nato a novembre quando ho deciso di creare un corso di marketing, perché tante persone mi chiedono ma cosa cavolo è Marketing Genius? Beh, Marketing Genius è un corso di web marketing, anzi in realtà è due cose allo stesso tempo. Marketing Genius è un corso di internet marketing che ti insegna come generare contatti, come fare delle vendite su internet di qualsiasi prodotto o servizio essenzialmente, quindi affiliate marketing, internet marketing, network marketing, attività tradizionali, negozi fisici, qualsiasi tipo di attività al giorno d'oggi, se non è su internet, se non ha una forte presenza online, è come se non esistesse. In Marketing Genius la mia idea iniziale era quella di condividere le cose che avevo imparato io, le cose che avevo applicato al mio business, e iniziare ad aiutare anche altre persone. In tanti che fanno parte della mia altra attività TAP, The Advert Platform, mi chiedono ma perché hai iniziato questa cosa, perché ti sei messo in gioco con un tuo business, eccetera. Beh, il motivo è che arrivati a un certo punto, ragazzi, non si tratta solo di fare soldi, ok? Il business non è solo fare soldi. Io penso comunque che il vero successo arriva quando fai una cosa che ti piace, che ti stimola e che ti tiene vivo. Io in The Advert Platform, che è la mia attività principale, penso di avere battuto tantissimi record, soprattutto record personali. Non pensavo di poter arrivare a creare un business così grande, ho iscritto tantissime persone, ho fatto un sacco di vendite, ho veramente rivoluzionato la mia vita grazie al mondo di internet, ma ero arrivato al punto che mi sentivo un po' spento, nel senso che la normalità era avere successo, no? Che sembra assurda questa cosa che uno dice, ma come cavolo fai ad annoiarti di avere risultati, di fare soldi? Beh, sì, perché arrivi al punto che dici, non è tutto qui per me, capito? Avevo bisogno di una sfida più grande. È come nei videogiochi, no? Che a un certo punto vuoi iniziare ad aumentare di livello. O nello sport, per chi fa sport arriva ad un certo punto che magari vuoi passare a livello successivo e diventare agonista o metterti in gioco in qualcosa di più grande di te, ok? Perché alla fine stare tanto tempo nella propria zona di comfort fa male. E io penso che nella vita noi alla fine siamo degli esseri viventi e se una cosa non cresce, muore, ok? E una persona, secondo me, che non ha obiettivi, che si accomoda, che si inizia ad accontentare, dopo un po' non vivi più bene, no? E io lo vedo, io ho un nonno qui che ha più di 90 anni, mio nonno, ed è informissima, veramente informissima. Va a gira. Io mi ricordo ha fondato una squadra di calcio, mio nonno, ed è ancora lì a 90 anni che vuole vincere il campionato, capisci? Cioè questa è la mentalità che veramente ti porta, ti tiene vivo, ok? Ti tiene, ti fa stare bene, ti tiene attivo, capito? Nella vita devi avere sempre degli obiettivi più grandi e un perché svegliarti la mattina e il perché non deve essere solo faccio una barca di soldi, ok? Quindi da queste cose, da queste considerazioni è nata poi l'idea di volermi mettere in gioco in un progetto mio. Ed è nato Marketing Genius. Inizialmente come corso di Internet Marketing, quindi per condividere della conoscenza e poi si è ingrandita questa cosa, è diventata sempre più grande, ad oggi è una vera e propria community di imprenditori online. Qualcuno l'ha definito il primo social network degli imprenditori digitali ed è così perché abbiamo creato un gruppo bellissimo, è la cosa più incredibile che non abbiamo ancora iniziato. Cioè ora che ci penso in Marketing Genius siamo più di 3.000 membri in neanche 6 mesi e non abbiamo mai fatto un evento dal vivo, cioè è incredibile, deve ancora realmente partire tutto questo. Quindi sì, siamo un corso di Internet Marketing ma siamo diversi, ok? Siamo veramente un'azienda diversa, un gruppo diverso e ci battiamo soprattutto contro la falsità, ok? Ci battiamo contro la falsità e vedo tante persone, pseudo guru, pseudo leader che millantano su Internet, che fanno gli splendidi, fanno i formatori, insegnano alla gente come fare le cose e loro non le hanno mai fatte. Qualcuno ieri ha scritto su Facebook, ah, iscrivere 100 persone non è Network Marketing perché ci sono ancora persone che credono nella roba old school, capito? Io mi ricordo ragazzi, tante persone che mi seguono fanno Network Marketing, mi ricordo quando avevo iniziato i miei primi business di Network ed ero lì che mi sbattevo però il mio team non si duplicava, avevo 300 persone nel mio team, molte di queste non volevano fare nulla, non si sbattevano e io non guadagnavo, ok? Perché alla fine non dipende tutto da te. Nel Network Marketing per come ti insegnano devi creare la duplicazione, no? Cioè devi trovare due persone che ne iscrivono due, che ne iscrivono due e si crea una rete importante. Ma la duplicazione, ragazzi, seguitemi chi fa Network Marketing, è la più grande cazzata della storia del Network Marketing. Lo sai perché? Perché non è vero che la gente si duplica. E sai perché? Perché molta gente non ha voglia di fare un cazzo. Quindi, quando io mi sono detto, porca miseria, ma se il mio team non fa niente, troverò, devo trovare il modo di crearmi i miei risultati da solo, per non dipendere più dal lavoro degli altri o da quello che fanno gli altri o da circostanze esterne. Non voglio più dipendere dalla mia azienda, non voglio più dipendere da nessuno se non da me stesso e dalla mia capacità di produrre risultati. Da lì ho imparato come iscrivere 300, 400, 500 persone da solo e lì ho trasformato la mia vita. Come? Beh, grazie ad Internet. Questa è la realtà. Chi non crede nel potere di Internet ad oggi, nel 2017, è fottuto. Mi dispiace, non vai da nessuna parte. E vedo ancora networker vecchi a scuola che dicono, mi hanno scritto, qualcuno mi ha scritto ieri, Matteo, io faccio network da 20 anni e i veri network sono quelli dove si veicola il prodotto, dove si parla con le persone, dove si fanno i meeting, tutte ste stronzate, no? Nel 2017 non è così, ok? Se fai network da 20 anni e non sei libero finanziariamente, qualcosa è sbagliato. Mi dispiace, ok? E io non sono il profeta del diventare ricchi in fretta, ma posso insegnarti come avere risultati in fretta, ok? E non è assolutamente vero che devi aspettare 10 o 20 anni per arrivare alla libertà finanziaria. Ci puoi arrivare veramente in poco tempo se ti applichi, se impari e se ti sbatti. Però una cosa è sbattersi andando a fare porta a porta, andando a dare i volantini, andando a fare queste stronzate old school che non servono più i volantini, ok? La mia ragazza ha aperto un negozio di abbigliamento a Valencia, non abbiamo mai dato in giro un volantino e facciamo decine di vendite al giorno online, ok? L'altro giorno c'erano dei vestiti che avanzavano praticamente, erano uno stock di vestiti che c'erano 6 modelli che non erano ancora stati venduti, magari poi passeranno di moda e a quel punto è come perdere dei soldi, no? Abbiamo piazzato 15 euro su Facebook, in due giorni li abbiamo polverizzati, ok? Con 15 euro al giorno abbiamo polverizzato praticamente una collezione, ok? Come cavolo è possibile? Beh, benvenuto nell'era degli imprenditori digitali, perché ad oggi funziona così il mondo, ok? Ed è molto più veloce di quello che credi se sai come fare le cose. Quindi tutti questi falsi guru, falsi profeti, persone che insegnano, no? A fare cose che loro non hanno mai fatto, io li voglio vedere strisciare, ok? Li voglio vedere strisciare e noi ci battiamo contro di loro. In Marketing Genius abbiamo solo persone vere, persone autentiche, persone che hanno risultati. Quindi non a caso ci sono dei top di tantissime aziende e anche top imprenditori nel settore tradizionale, ok? Abbiamo veramente persone che in pochi mesi sono arrivati al top delle loro aziende di Internet Marketing, di Network Marketing, di Multilevel Marketing, grazie al potere di Internet. Te ne posso citare alcuni, abbiamo anche online in questo momento il mio amico Marco Delendati, che se non sbaglio è il ventesimo al mondo nella mia stessa opportunità di business. C'è Marco Acorroni, che se non sbaglio è il dodicesimo, il tredicesimo al mondo, su una membership di, su un gruppo di 300.000 affiliati, ok? Abbiamo il mio socio e amico Fabio Gallerani, che è il primo al mondo nella sua opportunità di business. Persone che l'hanno fatto con le loro forze, ok? E io spesso vedo, anche contro questo noi ci battiamo in Marketing Genius, ci battiamo contro il fatto di credere che sia l'azienda o il business che fai che ti cambia la vita. È una grandissima cazzata, sei tu che cambi la tua vita, ok? E io adesso in questo momento vedo la mia bacheca di Facebook invasa, letteralmente invasa di persone che pubblicano ogni due giorni l'ultimo hot trend di Internet. Guarda, clicca qui, fai tre clic e fai un appacco di soldi. No, guarda, è uscita quest'altra roba sui Bitcoin. Il Bitcoin, l'Ethereum, il Pseudocoin, il OneCoin, il ZioCaneCoin. E ogni tre secondi esce un coin nuovo, perché adesso il trend delle criptomonete, che io non dico che siano sbagliate, anzi io sono un grandissimo sostenitore delle criptomonete, ma quello che è sbagliato è saltare da business a business, no? Continuare a cambiare business pensando che sia il business a fare la differenza, non è così. La differenza la fa la tua capacità di vendere e di produrre risultati, ok? E ti dico una cosa, vedo le persone che mi contattano e mi dicono Matteo, beccati sto business. Anche oggi pomeriggio un ragazzo mi ha contattato e mi ha detto ma perché non fai questo business insieme a me? C'è un piano compensi che spacca e paga benissimo. Ma il piano compensi è uguale in tutte le aziende di network? In tutte le aziende di network, anzi anche nel mondo tradizionale, il piano compensi per chi fa l'imprenditore, magari se hai un negozio o un'attività fisica, tipo un negozio d'abbigliamento come la mia ragazza o altro, il piano compensi è uguale per tutti e sai qual è? È vendi e fai soldi, ok? Nel network marketing il piano compensi è universale, iscrivi 100 persone e fai soldi, punto, ok? Quello è il piano compensi. Il piano compensi è sempre lo stesso, impara a alzare il culo, produrre risultati e fai soldi. Poi che ti paga il 5%, il 3% o il 10%, guarda che se tu generi un milione di euro di fatturato, che ti paghino l'1%, il 2%, il 5%, sono comunque un pacco di soldi, saremo d'accordo? Sarai d'accordo con me? Quindi il piano compensi è universale, ok? Impara a produrre risultati a vendere e fai soldi in qualsiasi roba promuovi. E te lo dico io che ho promosso veramente robe ridicole su internet. Ragazzi, io ho creato una pagina su Facebook con le feste in barca, dove fondamentalmente la prima versione, che è quella che mi ha dato maggiori risultati tra l'altro, diceva questo, diceva Ciao, benvenuto alla festa in barca più figa di Bizza, cioè troppa figa, troppo alcol e ti spacchi come un cane. La gente mi chiamava e mi comprava la roba, una roba senza senso ragazzi. Perché? Perché bene o male il nostro marketing era sexy, era attrattivo. Però anche se in modo assurdo, avevamo trovato il modo di fare 100 vendite. Quindi impara a fare 100 vendite in qualsiasi cosa promuovi, in qualsiasi settore sei, e non avrai problemi economici, ok? Questo è un po' quello in cui ci battiamo in Marketing Genius. C'è la gente in Marketing Genius stesso che mi chiede Matteo, ma in che business mi consigli di entrare? Io ti consiglio di entrare in che cazzo di business vuoi, se sai come fare le cose, perché puoi andare là fuori e produrre risultati con qualsiasi cosa. Capito? Quindi non ti concentrare sull'azienda giusta da promuovere, ovvio che l'azienda è importante perché deve esserci un prodotto, un qualcosa in cui credi, cioè deve esserci qualcosa in cui credi e che ti piace, se no non vai da nessuna parte. Però è fondamentale, è fondamentale saper produrre risultati. Quella è la cosa più importante. Quindi concentrati sulla tua formazione, sulla pratica, sul creare realmente, la cosa incredibile di internet è che stampi i soldi. Ti sembrerà un pazzo a dirti queste cose, ma veramente stampi i soldi. Una volta che tu hai deciso quello che ti piace promuovere, perché ti deve piacere, si tratta solo di andare là fuori e produrre risultati. Decidi praticamente tu quanto guadagnare e quanto impegnarti, però tu sai che uno più uno fa due, perché l'internet marketing è così. Se tu sai fare bene le cose, tu sai che se fai A e B ottieni C, ok? E quindi dipende da te, se le vuoi fare A1 e B A bene e B bene, ottieni un C fatto bene. Quindi da quel momento in poi, appena hai una tecnica, appena hai un metodo, è pura democrazia, cioè se ti sbatti ottieni i risultati. E' tutto qui. Però la cosa più incredibile è che se impari veramente dei principi universali e delle tecniche, ti senti, non so come spiegartelo, è come, non dico che ti senti invincibile perché, perché sto esagerando, però ti senti protetto. Cioè ti senti che se domani fallisce la tua attività fisica, non so, non puoi più operare nella tua zona, sei in un locale, magari ti tolgono la licenza, per esempio, ok? O se hai un'azienda di network marketing, magari la tua azienda si vende ad un'altra azienda, cambia, fallisce, può succedere qualsiasi cosa, tu sai che hai il tuo, hai la conoscenza e quella nessuno te la può togliere, ok? Quindi puoi ripartire domani in un'altra cosa e ritornare a produrre risultati così in un attimo. Questo è quello per cui ci battiamo in Marketing Genius. Allo stesso tempo abbiamo creato un programma di affiliazione. Tra l'altro la cosa bella è che se tu guardi questo live, questo video, qui sopra c'è un link, ok? Quel link del programma di affiliazione è il mio link personale, ok? Perché io stesso ho deciso di fare l'affiliato in Marketing Genius, ok? Anche il mio socio Fabio Gallerani è un affiliato in Marketing Genius. Quindi noi ci siamo messi allo stesso livello di tutti, perché? Perché vogliamo creare un posto che si possa chiamare casa. Quindi senza privilegi, senza regali, senza niente di particolare. No, io quando lavoro e promuovo Marketing Genius e quindi faccio le mie vendite, le faccio esattamente come tutti gli altri. Uso gli stessi strumenti, uso gli stessi link, uso lo stesso sito web e mi metto allo stesso livello degli altri. Perché? Perché qui i risultati li produci tu. Non ci sono regali, non ci sono privilegiati, non c'è tutta la merda che c'è là fuori e finalmente vogliamo creare una roba pulita. E questo è tutto fondamentalmente ragazzi. Il programma di affiliazione di Marketing Genius è una roba potentissima. Abbiamo deciso di pagare anche molto come commissione per gli affiliati. Perché? Perché fondamentalmente vogliamo persone felici e vogliamo persone libere. Detto sinceramente la maggior parte dei guadagni miei personali Marketing Genius vengono dalle mie vendite personali. Perché con le commissioni che paghiamo agli affiliati e tutti i vari costi eccetera che abbiamo rimane veramente poco. Quindi noi stessi guadagniamo da affiliati qua dentro. Ed è veramente una cosa incredibile perché era quello che io ho sempre sognato. E poi un posto dove veramente puoi essere te stesso. Puoi essere te stesso. La cosa bella è che mi sento anche abbastanza libero a fare i live parlando di Marketing Genius perché essendo il mio business non posso rischiare che mi venga sospeso l'account. E anche con tutti gli altri abbiamo un certo dialogo. Quindi per chi mi sta guardando ed è già un affiliato di Marketing Genius lo sapete questo. Magari c'è qualcuno che fa un errore e l'errore ci può stare. Magari promuovi in un modo sbagliato sbagli qualcosa, non lo so. In un'altra azienda puoi essere eliminato e tante volte lo fanno apposta. Tante volte un affiliato che genera tante commissioni al primo pretesto, alla prima scusa lo sbattono fuori perché? Perché così non gli pagano più le commissioni. È del terrore di tantissime persone. Ci sono tantissimi top leader che hanno paura arrivati a un certo punto, vivono nel terrore che gli tolgano l'account. Magari hanno paura a promuovere un'altra cosa perché hanno il terrore che quell'azienda gli tolga l'account. Io in vecchie aziende dove ero, ragazzi, non mi era consentito promuovere altri business. Cioè non mi era consentito fare altre cose. Volevano che io facessi solo quello. E se provavi a fare altre cose, ti minacciavano, ti toglievano l'account e perdevi tutto il tuo lavoro. Capisce che è ridicolo? Cioè noi su internet parliamo tanto di libertà, di rendita, di fare soldi e vivere la vita. Ma poi non possiamo vivere col terrore di perdere tutto quello che abbiamo creato lavorando duramente. Capito? In marketing genius questo non succede e non succederà mai. Ci sono degli affiliati magari che hanno fatto degli errori, ma noi non ci permetteremo mai di bannarli così, di cacciarli fuori senza un motivo. Ok? Magari si prende la persona, si mette da parte, gli si spiega, gli dice guarda hai fatto un errore, questo non andrebbe fatto. Chiaramente poi se uno fa una cosa terribile è ovvio che lì si ricorre a misure estreme, ma non è quello che vogliamo. Ok? Noi vogliamo le persone contente, vogliamo le persone che stiano bene, che promuovano bene in un certo modo. E la cosa più incredibile, vuoi sapere qual è? Che in sei mesi di marketing genius, no beh in realtà è meno, abbiamo lanciato il programma di affiliazione, saranno stati tre mesi fa, non è mai arrivata una lamentela. Ok? È incredibile, non è mai arrivata una persona che mi ha detto questo affiliato si è comportato male, questo affiliato ha sbagliato, io stesso quando sono andato a vedere, veramente devo fare i complimenti a tutti gli affiliati di marketing genius, complimenti, siete veramente l'orgoglio del mondo di internet perché state promuovendo la cosa con etica, ok? Con etica senza fare false promesse, senza fare promesse di guadagno assurde, no, dicendo le cose come stanno. Vuoi sapere le cose come stanno se sei interessato a marketing genius? Te le dico io. Tantissime persone hanno successo, tantissime altre non hanno successo, ok? Marketing genius non è la bacchetta magica miracolosa, è un sistema straordinario, ci sono le migliori tecniche di internet marketing che esistono, che c'è gente che non le vuole condividere, non le vuole condividere perché? Perché vogliono fare tutti i soldi loro, ma noi crediamo invece nell'abbondanza, no? Noi crediamo nella possibilità per tutti di crearsi veramente un futuro, ok? Quindi c'è veramente tantissima qualità, ma non è miracoloso amico mio, ti devi sbattere, ok? Ti devi fare il mazzo. vedo persone che non hanno risultati in marketing genius, poi vado a vedere il loro account e hanno fatto tre login, ma se tu fai tre login e probabilmente non ti guardi nemmeno i video che ci sono lì sopra, come cavolo fai a pregare di avere successo? Quindi la realtà è questa, se sei un fallito, sei un fallito nella vita e marketing genius non è per te, ma se ti senti un vincente, hai voglia di sbatterti, hai voglia veramente di imparare, allora questo è il posto giusto e ti posso garantire che è la migliore delle piattaforme che possano esistere per una persona per diventare veramente un professionista, ok? Un professionista è lavorare con altri professionisti. E professionisti, noi non intendiamo persone che girano in giacca e cravatta, no? E fanno i fighi agli eventi, no? Professionisti nel senso vero di professionista, cioè persone che hanno risultati, quelli sono i professionisti, a mio modo di vedere. Ci siamo rotti il cazzo di finti guru in giacca e cravatta che poi non fanno una lira, ti insegnano a fare cose che non hanno mai fatto e veramente il mondo della formazione è una roba assurda e ridicola, ok? Tutto qui ragazzi, voglio solamente aggiornarvi, tra l'altro in Marketing Genius avremo anche molto presto, a fine estate, a settembre, ci sarà il primo evento live di Marketing Genius. Abbiamo l'obiettivo di riunire tutta questa community che si è creata, di portarla dal vivo e di fare un mega evento e ti posso garantire che lì dentro abbiamo preso... Svelo qualcosa? Dai, svelo qualcosa. Abbiamo preso una grande agenzia che lavora a livello europeo nel campo degli eventi e ci siamo affidati a loro per creare una giornata che veramente tutti si ricorderanno per sempre. Sarà trasformazione pura. Qualità? Spiegheremo le migliori tecniche di Internet Marketing e i trend del 2018, perché vogliamo essere avanti, no? Quindi parleremo di cose che inizieranno a funzionare nei prossimi anni su Internet, le vogliamo anticipare, le vogliamo portare in Italia. Quindi questo è tutto e sarà una giornata veramente incredibile. A fine estate a Rimini non perdetevi quell'evento, a breve usciranno anche le date. Ovviamente ci sarò anch'io, sarò lì tutto il giorno, potremo stare insieme e poi la sera faremo un mega mega festone organizzato nella location che abbiamo preso. i dettagli usciranno a brevissimo, ok? Un abbraccio grande ragazzi, mi raccomando, potete iscrivervi gratis in Marketing Genius, ok? Abbiamo creato MG Movement, ci sono dei video gratuiti, webinar gratuiti, quindi non è necessaria la carta di credito per entrare a far parte di Marketing Genius, ok? Se lo vorrai poi potrai fare l'acquisto di uno dei nostri prodotti di Internet Marketing, ma non è necessario, ok? Puoi anche rimanere un membro free tutta la vita e ti vorremmo bene lo stesso, ok? Qui sopra c'è il mio link, grazie di tutto ragazzi, ci vediamo prestissimo, un abbraccio grande e a presto!